Con chi sto parlando? Quel golden boy dei procuratori italiani? O quell'usato processo per la scommessa? Con quello che rivole ciò che è suo. La gioia è un talento. E io potrei portarlo qui con la penna in mano in 24 ore. Firmerai la settimana prossima. È una bella cifra. Lo decido io. Chi è all'altezza. Io pensavo che fare il procuratore volesse dire scoprire i calciatori, gestirli. Cioè, te hai bruciato una macchina. Ma è una cosa che fai spesso? Cioè, perché ti ho visto molto tranquillo, capito? Ha bisogno. Sembra che ti piaccia davvero tutto questo. Fa parte del gioco. Un'isteria di massa che ci fa fare un sacco di soldi. Un'isteria di massa che ci fa fare un sacco di soldi. Un'isteria di massa che ci fa fare un sacco di soldi. Un'isteria di massa che ci fa fare un sacco di soldi. Un'isteria di massa che ci fa fare un sacco di soldi. Un'isteria di massa che ci fa fare un sacco di soldi.